Arte e scienza sono strettamente collegate e sono sempre più collegate, perché in fondo entrambe partono da quella meraviglia che è l'intuizione. L'intuizione scientifica e l'intuizione artistica sono molto, molto vicine. L'arte non è un modo per descrivere il visibile, ma per rivelare l'invisibile. È quello che fa anche la scienza oggi. La scienza va a rivelare l'invisibile. Il fisico Vittorio Marchi ha detto una cosa molto bella in questo senso. Ha detto che grazie alla fisica moderna stiamo riscoprendo tutta quella conoscenza perduta dell'uomo che adesso stiamo, grazie alla fisica moderna, ritrovando. Quindi potremmo addirittura dire che la fisica moderna non è una scoperta, ma una riscoperta di tutto quel patrimonio perduto nella notte dei tempi che oggi stiamo ritrovando, anche se con formulazioni di tipo matematico. Questo è molto bello, perché ci dice che la matematica è anche un modo per andare al di là delle cose, per trovare quell'essenza delle cose che la tangibilità non riesce a trovare. È una matematica sempre più astratta che ci consente di elaborare modelli di realtà in maniera completamente astratta, per scoprire che la vera realtà è quella. E quindi questo credo che sia molto importante, questo totale accordo che sempre di più avviene tra il mondo matematico e il mondo spirituale. Con un piccolo problema, però. C'è una parte di spiritualità che si occupa di questo in maniera molto seria. dove ci sono dei seri studiosi e seri ricercatori. C'è invece una parte di spiritualità che utilizza tutto questo in maniera totalmente strumentale, semplicemente per acquisire persone e, in qualche modo, per acquisire denaro e per fare business, utilizzando la fisica moderna e la meccanica quantistica senza verosimilmente sapere nemmeno quello che questa sia. Per esempio, oggi è anche difficile descrivere cos'è un campo quantico. Pensare in qualche modo che ci siano correnti spirituali che li possono maneggiare agevolmente mi risulta difficile. Quindi anche in questo senso il rapporto tra scienza e spiritualità è importantissimo, è da coltivare. Però non bisogna anche scadere in qualcosa che a un certo punto rischia di utilizzare tutto questo solo a scopo funzionare da loro. Grazie! Grazie! Grazie!